A seguito di un controllo effettuato a Roma, le guardie zoofile ambientali in Orsa hanno scoperto la cosiddetta linea di caserta, un traffico di cuccioli di razza che partendo dall'est Europa arriva anche nella capitale, con un fatturato a livello nazionale che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Tutto questo genera un fatturato economico sostanziale, parliamo di 5 milioni di euro a livello nazionale, 1,3 miliardi a livello internazionale. Sostanzialmente i cani acquistati a basso prezzo negli allevamenti intensivi vengono rivenduti tramite negozi compiacenti e piattaforme social. Ci sono dei commerci dall'est Europa con cani che vengono portati in Italia attraverso mezzi privati, pullman di trasporto merci in piccole quantità che poi vanno ai vari rivenditori italiani. Sono 8-9 mila i cuccioli che arrivano in Italia ogni settimana, poi vengono distribuiti tra il nord, il centro e il sud. Un giro d'affari per nulla sconosciuto alle forze dell'ordine ma che con il tempo ha cambiato modus operandi. La cosa tragica è gli allevamenti intensivi che questi hanno, fanno riprodurre i cani due volte l'anno, tre volte l'anno, affinché questi possano produrre quanto più cuccioli possibili, quindi in condizioni di gestione pessime e orribili. Diciamo che il trasporto meno perché hanno capito che trasportare in maniera barbara non conviene, ma per quanto riguarda nei paesi di origine c'è una barbarie di alto livello. L'ignaro acquirente si trova quindi ad aver pagato un cucciolo anche 2.000 euro per poi rendersi conto durante la crescita che non si tratta di un cane di razza. Parlare di razza significa avere un pedigree, quindi un certificato di razza. Questi vengono assimilati come similari di razza, la gente non lo sa e compra, che ne so, il barboncino di colore rosso, ma poi da grande non sappiamo se sarà il toy o sarà il cavallo. Le festività natalizie sono ormai alle porte, se qualcuno decidesse di regalare un cucciolo sarebbe meglio innanzitutto prenderlo in canile, dal momento che i rifugi sono stracolmi, ma se proprio si preferisce optare per una razza, è fondamentale seguire qualche utile consiglio delle guardie zoofile ambientali in orsa per non cadere in un possibile raggiro. Innanzitutto rivolge sia ad allevatori certificati ENCI o di altre organizzazioni serie, i quali possono dare un cane ben allevato al giusto prezzo ma con certificato di razza, ovvero con il pedigree.